Sono 14 nuovi casi di coronavirus emersi dai test delle ultime ore in Abruzzo. Il totale regionale sale così a quota 4.397. Purtroppo si registrano due decessi recenti, una 73enne di Fossacesia in provincia di Chieti che era ricoverata al Covid Hospital di Pescara ed un 41enne morto nei giorni scorsi per altre cause e poi sottoposto a tampone post-mortem. Il bilancio delle vittime così arriva a quota 481, numerosi decessi nelle ultime due settimane dopo una tregua che era durata quasi due mesi. I nuovi casi riguardano persone di età compresa fra i 36 e i 94 anni. Vi sono tra l'altro tre contagi a Torre Bruna, paesino del Chietino in cui vivono poco meno di 800 persone, due a Spoltore e due a Pescara. Gli attualmente positivi sono 865 più 8 rispetto a ieri, 52 meno 2 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale e 4 in terapia intensiva, numero invariato rispetto a ieri. Mentre gli altri 809 più 10 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASLE. I guariti sono 3051 più 3 rispetto a ieri. Del totale dei casi positivi, 625 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 1.041 in provincia di Chieti, 1.875 in provincia di Pescara, 815 in provincia di Teramo, 35 provengono da fuori regione e per 6 persone sono in corso le verifiche sulla provenienza. Gli aumenti maggiori si registrano in provincia di Chieti e in provincia di Pescara.